La guerra tra poveri, la guerra... E che permette alla gente di continuare a fare videogames e inventarsi delle crisi che permettono di continuare a furtare la gente. Una signora che si chiama... Lucilla di Stefano. ...dell'Associazione Famiglie Numerose. Ecco, questa idea proposta già da due interventi di una economia completamente diversa. Volevo portare questo paradosso sostanzialmente. Noi come famiglie numerose in questo periodo non abbiamo ridotto i nostri consumi. Nel senso che noi dall'inizio, comunque per scelta, abbiamo un consumo più etico, un consumo più solidale, un consumo che tiene conto dei rapporti delle persone che ci circondano. Quindi probabilmente, e mi sembra un po' strano che fino a questo momento, nessuno abbia posto l'accento forse sulla necessità di una maggiore eticità in tutto questo sistema, dove può essere una finanza più etica, un mercato più etico. E la nostra realtà, perché noi siamo consumatori evidentemente, io ho cinque figli e loro ne hanno otto, loro ne hanno cinque, quindi evidentemente consumiamo tanto, ma se dall'inizio ciascuno di noi si pone un problema di un consumo che tenga conto e rispetti gli altri, probabilmente le dinamiche sociali sono diverse. Cioè noi educhiamo i nostri figli alla solidarietà, all'apertura verso gli altri, ma anche all'attenzione, no? E quindi già in un certo qual modo nelle nostre famiglie c'è una sorta di redistribuzione del reddito. Non offendetevi, ma fino a oggi quello che lei ci racconta è parso un po' noioso, posso dire anche una parolaccia, un po' sfigato, no? Come dire, un po' marginale rispetto invece a modelli di successo e di benessere.